Ed Sheeran sarà in un cameo nel prossimo film di Star Wars, punto interrogativo, la voce si era diffusa nelle ultime ore di tempo, la Disney però ha smentito in maniera categorica che il musicista inglese sia nel cast del film L'Ascesa di Skywalker che uscirà il prossimo 18 dicembre 2019. Ed Sheeran infatti dovrebbe apparire nel film diretto da J.J. Abrams interpretando uno strong trooper, soldato dell'impero, insieme a lui ci dovrebbe essere un cameo anche Lin-Manuel Miranda, la star di musical Hamilton. Vi ringrazio per l'ascolto dunque questo sarebbe quattro, un saluto caro e al prossimo vi vedo da Yano, un narratore italiano di YouTube Italia.